Partita, la semifinale numero uno del junior femmine e asciutare nel turno le prime due atleti classificate sui attraguardo confusivo. Qui ci si è composta nella prova più importante, nella finale della sprint, atleti che stanno dando vita alla loro prova. E poi in un'altra vista, tutti hanno il turno. E poi in un'altra vista, la fase finale se la dà. Ecco, in un'altra vista, il quadro. Partita la prova anche per la batteria numero due, sono in gara di ogni un'altra vista di vittoria di vittoria, c'è il capion da Georgia. Poi le finaliste ci sono già, lascia scaldere la semifinale precedente, le primarie figure si qualificeranno, anche a vincere questa prova, chiaramente. le primarie figure di vittoria di vittoria, la prima sprint, siamo alla rata conclusiva e di un allo sul trovato anche per queste, a voi, per queste concorrenze.